Un saluto a tutti qui Drago Pippo. Oggi vorrei parlarvi di questo anno 2021. Siamo a dicembre e in questo anno si è parlato molto di tecnologie avanzatissime. Nonostante la pandemia che ci sta veramente distruggendo, a livello tecnologico stiamo arrivando davvero a degli eccelsi. Si sta parlando molto di metaverso, si sta parlando molto di criptovalute, di alcune diciamo tecnologie che a parer mio molte persone non capiscono che cosa significa, non capiscono come funzioni. E' del tutto ragionevole non capire perché si parla di tecnologie all'avanguardia, tipo metaverso. Che cos'è il metaverso? Avete mai visto uno degli occhialini di questo? Molto semplice da capire. Il metaverso sta per essere creato ed è già online per poter entrare nei mondi virtuali attraverso, al momento abbiamo tecnologie del genere, occhialini che possono entrare in questi mondi e poter interagire con le persone a livello virtuale. Oppure, criptovalute, chi ha mai visto una di questa? Questa è una moneta Shiba. Si è parlato molto delle criptovalute in generale, quanto Shiba in questo anno ha fatto un picco massimo. E' bene che noi iniziamo a capire come funzionano alcune di queste cose. Perché potrebbero diventare una realtà in pochissimi anni. La tecnologia sta andando talmente avanti che potrebbe arrivare molto prima di 15 anni, da oggi e nei prossimi anni. Avete mai sentito parlare di Bitcoin? Ebbene, ce ne sono abizze di queste monete virtuali. E io oggi voglio farvi vedere come poter ricevere una piccola parte ogni giorno in maniera totalmente gratuita. E' totalmente legale, basta semplicemente scaricare un'applicazione. Ecco, ora state vedendo lo smartphone in modalità registrativa. Zitta, ecco, Alexa, zitta. Ok. Stavo dicendo, ecco, in questa applicazione praticamente è un browser. Cioè, andate su Google, andate su internet, utilizzate Chrome, Firefox, eccetera. Ebbene, questo è semplicemente un browser che utilizzandolo potrete accumulare Bitcoin e potete gestirli nel vostro wallet. Il vostro wallet è un portafoglio virtuale dove potete accumulare i Bitcoin. Noi semplicemente installeremo questa applicazione e andiamo ad aprirlo. Come potete vedere adesso in questa sezione voi vedrete il livello di Bitcoin che io ho accumulato. Vedete questa linea di caricamento? E' l'hash rate. Praticamente è la velocità con cui sta scaricando alcuni Bitcoin o una minima parte. Quindi non possono darti 42 mila euro, però piano piano utilizzando semplicemente questa applicazione potrete ricevere alcuni crediti. Molto semplicemente, voi nella parte in alto, qui sopra, potete scrivere qualsiasi cosa che voi vogliate cercare, come fate semplicemente su Google, e navigate normalmente. Quando volete andare a vedere se il vostro portafoglio sta scaricando ancora Bitcoin, basta semplicemente andare nel pulsantino qua in basso a sinistra. Si tratta del pulsantino arancione CryptoTab, quindi voi se lo cliccate, se noi lo clicchiamo, arriverà in questa sezione, dove voi qua sotto vedrete quanto costa un Bitcoin e il vostro pannello di controllo. Quindi clicchiamo nel pannello di controllo e arriviamo nella vostra sezione. Ecco, l'attivazione di questo scaricamento di crediti è ogni tre ore, quindi in questo caso mi rimangono 31 minuti e 11 secondi affinché il cloud si fermi. Io semplicemente, appena finito questi 30 minuti, vado a cliccare accendere, eseguo semplicemente una verifica del captcha e si attiverà per altre tre ore. Noi facendo così, ogni giorno cliccando e accendendo questo hash rate, noi scaricheremo i nostri Bitcoin. volete ritirarli? Allora semplicemente dovete andare a ritirare Bitcoin, quindi cliccate, attualmente io non posso ritirarli perché non ne ho abbastanza, l'importo minimo è 0,0001 Bitcoin e potete ritirarli. In questo modo voi avete la vostra somma, se lo tenete lì, avrete la vostra somma un po' più alta. Molto semplicemente questa è un'occasione per poter essere possessori di Bitcoin, anche se in maniera molto minima. Quindi se volete attivare questo tipo di guadagno non dovete far altro che cliccare nel mio link di affiliazione, così io guadagnerò una parte e voi ne guadagnerete un'altra. Quindi non dovete far altro che cliccare qui sotto in descrizione, vi lascio il link, mi raccomando. Quindi mi raccomando state attenti alla tecnologia perché comunque quando si eccede è molto pericoloso, anche quando si parla di metaverso, di entrare nei mondi virtuali attraverso queste cose, sì è molto bello ma è sempre pericoloso. Come tutte le cose bisogna sempre avere un certo equilibrio e anche quando si parla di criptovalute. Fate molta attenzione se non siete degli esperti. Quindi per questo è tutto, mi raccomando lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e accendete la campanella, molto importante per ricevere una notifica di un mio video che è uscito. Rimanete sintonizzati e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Chi lo sa che poi non faremo qualcosa, non entreremo nel mondo virtuale. Chi lo sa?